eccoci qua col nostro sim 200 stiamo raggiungendo la spiaggia di balos grazie a tutti se cercate un angolo di paradiso qui sulla terra beh ci siete arrivati la laguna di balos con la sabbia bianca pazzesca seguitemi ciao a tutti benvenuti siamo qui finalmente in una delle spiagge più belle di creta se non addirittura di grecia come vedete siamo in una laguna con la sabbia bianca bellissima e balos per arrivare con la nostra moto abbiamo dovuto affrontare una mulattiera di 7 km e poi una camminata di 20 minuti state quindi attenti e cercate di arrivare qua alla mattina prestissimo ciao 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 ciao